...dell'esterno Mancino, il gol di Pintante che porta avanti la squadra di Rastelli niente da fare per Cicci Zola, siamo all'ottavo e quaranta secondi i tifosi dell'Avenino in festa, è dato tutto da una rimessa laterale che lei Guantanini aveva dato allo Spezia, invece ha invertito la decisione dell'arbitro vedete Pienizza che protesta col quarto uomo, perché nasce tutto non da qui, dopo la vediamo meglio questa è la parte finale, è bello l'inserimento di Pintante che parte sul filo e fuori gioco nessuno della difesa dello Spezia riesce a tenerlo e poi Pintante trova il palo più vicino inutile il tentativo di Cicci Zola occhio perché c'è l'allenatore dello Spezia, Pienizza